Bella a tutti ragazzi, sono edXmax e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ragazzi siamo tornati su Stumble Guys perché cercheremo di andare avanti E superare le 45 corone, vi ricordo il like, l'iscrizione e la campanella Cercate edXmax su TikTok e su Discord, ci sono i link in descrizione Se volete fare una piccola donazione, primo link in descrizione Vi aspetto alle 10 in live, giochiamo prima a Stumble, ragazzi, 10 di mattina Allora, detto questo ragazzi andremo a fare, facciamo 2-3 partite Almeno una la voglio vincere perché oggi questo video è dedicato al sorpassare le 45 corone, ragazzi Quindi cerchiamo di sorpassare, vi aspetto alle 10 in live, ragazzi Che ci divertiamo nemmeno su Stumble Allora, pivot patch Come prima mappa ci può stare Ci può stare Vi ricordo ragazzi di andare a vedere anche lo short Insomma, ragazzi, vi ricordo che faccio un video, una live e anche uno short al giorno per ora Detto questo, siamo su pivot patch e stiamo andando molto bene GranitXmax Se non inizia la gara, mi farebbe un piacere, ok? Doppio salto! L'ho rischiato un bot, andiamo con calma tanto il primo round E' abbastanza sempli Ok, perfetto, ragazzi Perfetto, ragazzi No, 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 oh, oh Detto su max Ok, missione qualificata Ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo game Al prossimo round E cercheremo di vincere Dai che voglio superare le 45 corone Django roll Secondo round Django roll Ok, ok, va bene Va bene, sono nato anche abbastanza In un posto abbastanza buono Ok, doppio salto qua Doppio salto qui Dobbiamo fare il trick box nazionale Il trick Ci vogliamo sul tronchezzo Qua possiamo passare così molto bene Siamo un po' più in vantaggio degli altri Siamo un po' più veloci Perfetto, ragazzi Mettete sto like Che non vi costa nulla E anche l'iscrizione Dai che abbiamo 700 iscritti La possiamo fare Ok, doppio salto qui Speriamo di passare qui Vediamo se Si qualifica il No, no, il pugno Ok, ragazzi Siamo qualificati Comunque ci becchiamo In final game Voglio superare le 45 corone Forza Forza etics max nei commenti Ci becchiamo in final game Eh, raga Lava land Non c'ho il pugno E credo di aver perso Non la vincerò mai questa, ragazzi Credo che questa qua Sia già sconfitta Ci proviamo, ragazzi Ma è molto difficile Non ho mai vinto Sul lava land Soprattutto perché Non ho il pugno E devo stare lontano Da tutti Perché, raga Purtroppo, raga La valente È una delle mappe P2Win Storso qua C'ha pure No, ok Ok Il crema non mi diano i pugni Dai, non fate P2Win con me E io devo stare lontano Da quello, però Ok, sono andato Ok Passano da solo Per fortuna Ok, molto bene, ragazzi Stanno andando bene Per ora Allora, devo far così E far così Molto bene Ragazzi, stanno andando bene Siamo da soli E ora Ok, sono passato Non so, qua Potrebbe darmi il pugno Da un momento All'altro Ok Ok Dai, falsetto Dixmax Nei commenti, raga Oh, l'ho rischiato Oh, l'ho rischiato Oh, mamma Startato il nuovo game Ragazzi, non ci credo Potevo vincere Ragazzi, forse Dixmax nei commenti Ragazzi, per favore Vi aspetto alle 10 In live Giocheremo tutti insieme a Stamble Ragazzi, alle 10 del mattino C'è scritto anche In descrizione C'è anche il link di TikTok E su Discord Se volete fare una piccola donazione C'è il link per le azioni In descrizione Detto questo Ragazzi, in descrizione C'è scritto tutto Ci sono tutti i link E c'è scritto anche Che vi aspetto Alle 10 In live Giocheremo tutti insieme a Stamble Guys Facciamo server privati Potevo vincere Quella lì What? Ragazzi Non so cosa sia successo Sì, vabbè Oh Ragazzi 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 Ma cosa è successo? Ragazzi Mi sono qualificato What? Ragazzi Io non me la tolgo Questa parte qui Voglio farvi vedere Che cosa mi succede Ogni giorno Su Stamble Guys Ragazzi Non so cosa sia successo Sì, è aperto Bigo Live Vabbè Non pensiamoci Ragazzi Detto questo Ragazzi Ci siamo qualificati Non so come Grazie mille per il like Ragazzi L'avete messo Gentilissimi Dai ragazzi Questo qua è il secondo game Vediamo se riusciamo a vincerla Andiamo un po' Già 6 minuti di video E ci becchiamo al secondo round Lost Temple Allora Una mappa che servono tanti Io Non sono un pro player In questa mappa Però dai Me la cavo Abbastanza Bene Sì E poi stare zitto Edixmax State zitto Edixmax Ma ti devi svegliare Ma te Andiamo di qua Che ci sono meno tronchi Ragazzi Lo so che Perdo tempo A andare da questa parte Ma ci sono meno tronchi E sappiamo già Come è fatto Etixmax Ok Dopio salto Qui facciamo un altro Dopio salto Per cercare di andare Più veloci No Meglio stare qua Tanto questo qua Il secondo round Non è la finale Quindi Ok E ragazzi Ci siamo qualificati Come secondi Ci becchiamo in final game Oh dai Ragazzi Non mi scammare di nuovo Stumble guys Perché già prima Mi hai scammato sulla valenda Perché mi hai fatto il body blocking Mi ha buttato giù Ragazzi Ci becchiamo in final game Cerchiamo di vincere Cerchiamo di superare Le 45 corone Dai Voglio le 46 Super slide Super slide Ok Va bene Molto interesting Non sono nato Proprio in una posizione Buonissima Però potrei Far Ok Sono persone più avanti di me Però Dai voglio superare Le 45 corone C'è quel babbo natale Lì e basta Ok Ho fatto il trick I don't know how Perché non so Come neanche Come ho fatto il trick Faccio di stare Dai che voglio superare Le 46 Sbaglia qualcosa Babbo Babbo natale Ok Santa claus Babbo natale E tx max Si porta a casa La vittoria Ragazzi Finalmente abbiamo superato Le 45 corone Adesso ragazzi Ne facciamo un'altra Voglio superarla Di 2 45 corone Ragazzi vi ricordo che arriverà Il video del 50 corone Vi ricordo anche che arriverà Il video del box opening Del pass di Istanbul Abbiamo vinto ancora Su super slide Facciamo un'altra partita Perché voglio portarmi un altro win Un'altra win come in tutti In altri video Comunque ragazzi La win l'abbiamo fatta Quindi a me non mi interessa più Riscuotiamo Riscuotiamo ragazzi E abbiamo 46 corone Finalmente 8900 coppe Proviamo a farne un'altra Dobbiamo arrivare a 47 Corone Ma comunque la win Ce l'ho sempre portata a casa Quindi ormai Non mi interessa più Vediamo un po' Uh Talfone Molto molto bello Perché è molto veloce Come mappa E di solito Mi qualifico sempre Il primo round Al secondo è un pochino Più complicato Ma Al primo round Talfone È abbastanza semplice Se non gioco Proprio male male Sulla connessione Non è proprio Ci siamo capiti Vi ricordo ragazzi Di lasciare un like Un'iscrizione Una campanella Cercate ethics max Su tiktok e su discord Ci sono i link In descrizione Quindi andate in descrizione Se volete fare una piccola donazione Prima il link in descrizione Ragazzi Tutte le donazioni sono apprezzate Non ho ancora il mio pronator Ci vedremo chi sarà Noi ci picchiamo Al secondo round Uvere under Ok ragazzi Tra l'altro Vi aspetto anche alle 10 In live Giocheremo tutti insieme a Istanbul 10 di mattino Ragazzi vi ricordo Ok sono passato Molto bene No no come Non ci credo Non ho sempre fatto Quel tricklea Ancora No vabbè Sì vabbè Bravo Cioè raga Ma vi rendete conto? Vi rendete conto? Ragazzi non mi devo qualificare La win l'abbiamo portata a casa Mi ha pure laggato Cioè raga Non mi dite che mi qualifico Non mi dite che mi qualifico Ok ok Non mi dite che mi qualifico Perché raga Non ci credo eh Non ci credo raga Non ci credo raga Ci siamo qualificati What? Cioè avrò perso tipo 20 secondi Mi sono qualificato Non ci credo raga Allora che recuperone Mi merito un like Se non l'avete ancora messo Vedetelo anche all'iscrizione Se non l'avete ancora messo Siamo vicini ai 700 E ragazzi vediamo Il final game Mamma mia Che qualificazione Mi sono qualificato Vabbè non c'è neanche bisogno Di tagliare qua Vediamo un po' cosa esce Qualcosa di buono Uh laser game Molto interessante Dopo questa partita Ragazzi salutiamo Ok 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 Molto bene Primo laser Abbastanza semplice Ok quello lì C'è il C'è il Braccio Ma l'abbraccio È sempre il meno pericoloso Tra le moto È il meno pericoloso Ok Quel ninja lì Credo che c'abbia tutte le moto Oh no Anche l'ho scienziato Eh raga Ma è troppo P2W Questo gioco Cioè No ma come No vabbè però mi ha laggato un sacco Vabbè raga Cioè mi sta facendo venire i nervi Mi sta scammando troppo Comunque raga vi ricordo Un like Un'iscrizione Una campanella Cercate etics max Su tiktok e su discord Ci sono i link in descrizione Se volete fare una piccola donazione Primo link in descrizione Grazie mille Andate a vedere Lo short che ho appena messo Anche sotto questo video E vi aspetto alle 10 in live 10 del mattino Mi raccomando Ciao a tutti raga Le 46 corone abbiamo fatte Yes Ci vediamo Dopo le 10 in live Ciao Grazie mille per aver visto questo video Ciao Ciao